Voga 2016, miglior libro letto nell'ultimo anno. E non è un libro, in realtà sono cinque. Sono cinque raccolte di racconti che fanno parte di un'unica serie. Sto parlando della serie dei Vedovineri di Isaac Asimov, che non è una serie di fantascienza, è una serie di brevi racconti gialli. Molto, molto interessanti, c'è una forte influenza di Agatha Christie in questi racconti, però sono molto piacevoli. Il Club dei Vedovineri è un piccolo gruppetto di persone, che si incontrano una volta al mese per una cena di soli uomini non sono vedovi, comunque, però in questa cena sono solo uomini. Hanno un ospite, quest'ospite viene a raccontare una storia e pone un mistero. E loro riescono ogni volta a risolvere, a svelare che qual è questo mistero, con l'aiuto del loro cameriere. Veramente molto gradevole, ve lo consiglio questa serie se volete qualcosa di breve e simpatico da leggere, magari sotto l'ombrellone. Comunque questo è il libro che vi consiglio io, appunto la serie dei Vedovineri. E tu qual è il miglior libro che hai letto quest'anno? Fammelo sapere con un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è Voga 2016, ci vediamo domani.